Rifiuti ed emergenza nelle Marche sembrano parole destinate ad andare perennemente a braccetto, ma il sovrapporsi di molti fattori critici rischia di arricchire il lessico con un termine ancora più perentorio, collasso. È quanto emerge dall'analisi di Confindustria Marche ed Amis, che hanno recentemente incontrato i principali interlocutori istituzionali e amministrativi regionali e provinciali, lanciando un grido di allarme per una situazione che sta diventando esplosiva e che, se non affrontata in tempi rapidi e con provvedimenti efficaci, avrà serie ripercussioni sul sistema di gestione dei rifiuti. Se è vero che la cultura del recupero, anche nella nostra regione, è sensibilmente cresciuta negli ultimi decenni, è anche vero che nel recupero dei rifiuti speciali siamo fermi a quota 51% del totale e solo l'1,6% è andato a incenerimento con recuperi di energia. La lieve ripresa economica e l'avvio della ricostruzione post-sisma contribuiranno ulteriormente all'aumento del quantitativo di rifiuti speciali prodotti nella nostra regione. Pertanto, questi fattori, tutti insieme, producono una situazione di emergenza che impone responsabilità nelle decisioni da parte della politica, delle istituzioni e delle amministrazioni locali preposte. Decisioni che vadano soprattutto nella direzione di autorizzare velocemente l'ampliamento delle discariche esistenti e di individuare i siti dove possono insediarsi nuovi impianti necessari sia allo smaltimento che al recupero.